Il sole bacia belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio. Che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. C'è una grande attesa per questa partita. Il pubblico si fa sentire e i decibel aumentano sempre di più. In questi cori c'è tutta la magia e il significato del calcio e sarà veramente un piacere viverla insieme a voi. Pereira! E c'è il gol! L'arbitro fischia un po' a ritardo, forse il fuorigioco però è sacrosanto. L'assistente ha alzato la bandierina anticipando il fischio dell'arbitro. Una buona chiamata secondo me. La decisione dell'arbitro è arrivata tardi ma è sicuramente corretta. Bosch! Sale Mekers! Sale Mekers! Prova a spingere sulla corsia di sinistra. Sale Mekers! E trova bene il compagno. Prova il cross in aria. Gran colpo di testa! E arriva la prima rete della giornata! E segnano il primo gol dell'incontro. Grande colpo di testa. Rapido, preciso. Ha colpito bene. Con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Gol! Ha segnato all'undicesimo minuto. Numero 7. Un gol all'inizio. è sempre importante. Si mette bene per loro. E il tocco è verso il portiere. Orsolini. Moro. Qui può partire il contropiede. Scavalca la difesa con un pallonetto. Sulla fascia. È libero. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione. E il risultato è stata una palla persa. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Il portiere la calcia lontano. Sceglie di andare per vie verticali. Ha spazio sulla fascia. Palla al centro. Si fa trovare al posto giusto. Al momento giusto. Pallone interessante. In verticale. Colpisce il pallone. Troiler. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estero. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. Orsolini. Prova a darla profonda nello spazio. Può liberare il tiro. Occhio alla conclusione. Palla in fondo alla rete. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Zirkzei ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. Ha segnato al ventisettesimo minuto numero nove. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Sull'1 a 0 la partita era apertissima. Fischio del direttore di gara. Calcio di punizione. Wollas. Passaggio sulla destra. C'è un compagno largo pronto a ricevere. Ebozzer. E il pallone supera la linea non può arrivarci. Gioao Ferreira. Contrasto molto deciso. Un'entrata inscivolata da manuale. Sventa la minaccia. Evita rischi inutili e la passa dietro. Pallone lungo in verticale. E passa! Ebozzer. Perer. Ecco! Un salvataggio molto efficace. Orsolini. Zierkzei. Vuole sfruttare lo scatto. Palla a Selemakers. Ha solo il portiere davanti a... C'è tiro! La sua conclusione manca lo specchio della porta. La difesa sembrava imbambolata. Non sono riusciti a contrastarlo per niente. Lo sposta di peso e gliela porta via. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova il tiro! E c'è ancora un gol! Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Conclusione straordinaria all'angolino. Inutile l'intervento del portiere. Non poteva esserci altro finale per questa conclusione da maestro. Goal! Ha segnato al 39esimo minuto numero 19. Tre gol e dai partita in cassaforte. Samarzic. Una bella giocata nello spazio. Pereira! Trova nella rete! Era proprio sul filo del fuorigioco ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Goal! Ha segnato al 41esimo minuto numero 37. Si riparte con due reti adesso da recuperare. Passa il pallone però male. Zirkzei la mette sulla sinistra. Perez. Ai ai! Stanno correndo rischi davvero inutili! supera il diretto avversario. Palla verso il centro dell'aria. È ben posizionato e spazia via la palla. È una buona occasione per trovare spazio. Camara. La gioca in profondità. Attenzione al tiro! Voi in rete! Proprio all'ultimo respiro di questo primo tempo. Questo gol, Fabio, è la degna conclusione di un assist geniale. geniale! Gol! Numero 32. Gol! Gol! L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un teccaldo, abbiamo assistito a un bello spettacolo. Non mi aspettavo nulla del genere, essere onesti. È stata una gara entusiasmante ma imprevedibile e credo lo sarà anche nel secondo tempo. Cinque gol nella prima frazione, un grande primo tempo, tre a due, emozioni a non finire. Speriamo che dopo l'intervallo la partita riprenda sugli stessi binari. Si riparte per il secondo. Ci informano che non c'è nessuna novità nelle due formazioni. Calafiori, Freuler, Bosch. Palla in avanti verso il compagno. Riceve palla da dietro. Se ne va. Orsolini la mette in mezzo. Moro. Sale Makers. Riceve la palla. E qui hanno rischiato grosso ma la difesa è riuscita a rimediare. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili. L'appoggio sulla fascia. Pressing asfissiante. L'arbitro non fischia. Occasione per il contropiede. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce. Mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. La mette in mezzo. Perera. Prova a superare la difesa con un filtrante. Errore qui. Pallone sprecato. Bella quest'azione. Devono continuare ad insistere. Ormai non hanno altra scelta. Devono solo attaccare. Sono d'accordo con te. Zierkzei. Pallone nello spazio. L'allontana deciso. Devono far tirare rapidamente i palloni e andare nello spazio. Ferguson. Cerca la giocata di Fino. Ed ecco che viene servito sulla fascia. C'è spazio per calciare. Orsolini la mette in mezzo. C'è spazio per calciare. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Bella palla. Deve approfittarne. Che pallone gli ha dato. Sale Makers. Ecco un'occasione di contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Orsolini. Ha letto la traiettoria di tiro e ci ha messo il corpo guadagnandosi gli applausi della panchina. Ha reagito distinto con rapidità ed efficacia. Numero 37. Guadagnano un tiro dalla bandierina. Il primo assoluto del match. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Ferguson. Ferguson. Ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Samarzec. Samarzec. Oggi autore di un assist. Libera il compagno. Ci prova. E sì. Trova la rete. Proprio nell'angolo. Il portiere non poteva farci nulla. Precisione, potenza e tempi di esecuzione. Questa rete ha tutte le carte in regola per finire nelle classifiche dei gol dell'anno. La mossa giusta al momento giusto. Dopo pochi minuti l'aziongresso in campo la mette dentro. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. Primo cambio in arrivo serve uno spunto dalla panchina. Non c'è da sorprendersi di questo cambio. Ha dato il massimo ed è giusto e lasci spazio a un giocatore fresco. E sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. Questo gol darà loro una grande spinta. E se adesso provassero a vincere la partita? e Bisher. A sinistra con il passaggio. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede Fabio. È gratificante assistere a un match così in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Wallace Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Pallone interessante in verticale. Cross verso il centro. Grande parata su una palla insidiosa. Che parata! Certo non un intervento di routine. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Difficile trovare uno spazio libero in area di rigore. Sono praticamente tutti lì. E Bisher. Ottimo! Qui deve tirare! Ci sta provando tanto ma la palla non vuole saperne di entrare. È vero che chi semina raccoglie ma devono anche essere spietati quando è il momento. Altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Success. Una bella giocata nello spazio. Fa sembrare tutto facile in difesa. Tocco preciso. Success! Sì, è entrata! Un bel giagliello! Difficile fare meglio! Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Sono movimenti ripetuti mille volte in allenamento. Ma eseguirli alla perfezione in partita... Beh, innanzitutto non è facile e deve essere molto gratificante. E così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. Fallo! Nessun dubbio! Abyssella! E' Evi Share. Il recupero è quasi finito. Presso arriverà il fischio dell'arbitro. si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro fa sempre male perdere fa ancora più male quando sei stato avanti nel punteggio quando hai avuto di fatto la partita in mano e poi te la sei fatta scivolare via